X Factor, siamo al settimo capitolo. Il talent partirà il 24 ottobre in onda su Sky 1 HD. In giuria il grande Mika, primo straniero nella storia del programma che in meno di un mese ha imparato l'italiano e i classici della nostra musica. È di origine anglo-libanese e sembra un tipo in gamba. Alle prime audizioni che si stanno tenendo in questi giorni ha dato giudizi molto diretti del tipo canti come mio fratello ubriaco. È attento, è sereno, ma ai provinanti ha detto varie volte di no. Sembra, dice, che io sia il cattivo, ma non è vero, voglio solo essere onesto e che questa sia un'avventura gioiosa. È convinta che qui tutto sia più spontaneo e meno controllato che da altre parti. Dice, si respira un'area di libertà che altrove non è possibile trovare. E poi abbiamo Elio. Elio, dopo molte indecisioni, ha deciso di esserci. È di nuovo della partita. Alla fine dice, ho accettato perché possiamo migliorare molto, ospirandoci all'estero. Cantanti bravi in Italia ce ne sono, ma servono anche autori. Aggiunge poi simpaticamente, mi spiace che si parli di Mika e poco del fatto che io sarò senza baffi. Morgan, anche lui della squadra, ha di nuovo confermato, dice voglio che si canti con l'inconscio a fior di pelle. Ci tiene a ricordare che, con i suoi ragazzi, quei metodi appassionati hanno sempre funzionato. È vero, è vulcanico, è eternamente travolto dai guai, eppure di cinque edizioni, a cui ha partecipato e ne ha vinte quattro. E vogliamo ricordare anche che i suoi protetti, come Mengoni, Chiara, Antonio Maggio, Noemi, sono i più di successo, i più longevi. E la mitica Simona Ventura, beh, lei supervisionerà tutto, ovviamente.